Ciao ragazzi, oggi vi parlerò del tubo meccanico Tomahawk Clone by King Bright. Allora, il tubo è intanto... appena lo prendi in mano si sente subito che è bello massiccio perché infatti in ottone è ricavato dal pieno. Poi tra l'altro è uno, forse l'unico, addirittura che ha un sistema di sicurezza interna che è eccezionale. Semplicissimo, però è eccezionale perché appunto è questa camice, diciamo, di plastica che si inserisce all'interno dove poi va messa la batteria 18650 e si va a chiudere. Questo evita i cortocircuiti, molto sicuro come sistema. Io sopra ci ho messo il Kennedy, sempre clone, da 24. Il tubo è diametro 27 e il finale, diciamo, è da 22, però grazie a questo adattatore si può mettere benissimo un atomizzatore da 24 mm e ci sta perfetto senza sbordare. Lo smontaggio dopo che poi uno lo smonta effettivamente la seconda volta è semplicissimo anche se la prima volta, a dire la verità, ho avuto anche paura di aver perso qualche pezzo e ora vi spiego anche perché. Quando andiamo a smontarlo, intanto non è con la filettatura, il tappo che poi è quello che c'è il tasto che si preme per poi fare il contatto, non ha filettatura, va semplicemente in pressione tramite uno ring, va qua dentro e si chiude, semplicissimo ed efficace. Lo smontaggio avviene tramite sempre le brugoline, basta una semplicissima chiavetta a brugola, si smontano le quattro vitine, andiamo a smontarle tutte, due, tre e quattro, quest'altra, vediamo che appena si smonta esce fuori subito il tappetto, questo in plastica e salta fuori una rondella, sembra una semplicissima rondella che in verità è un magnete. Appena togliamo il tasto vero e proprio si scopre che c'è un altro magnete. Quando io la prima volta l'ho smontato e mi sono saltati fuori entrambi i magneti, si sono uniti e ho detto, mio Dio, ho perso qualche mollo perché non sapevo come funzionasse appunto, che poi è una cosa semplicissima quanto funzionale appunto perché è eccezionale. Praticamente come funziona? Se noi ovviamente mettiamo il polo positivo e il negativo si attraggono, se invece li mettiamo opposti, loro si respingono. Quindi quando noi andiamo a mettere tutti e due i magneti, così funge da molla. Quindi quando poi andiamo a mettere il tasto e tutto là dentro, questa è la molla che poi si viene a creare. Semplicissimo. Però funzionamento ottimo. E tra l'altro questo sistema l'ha brevettato un italiano. Questo, vabbè, il tubo che ho io in questo caso è un clone, ma voglio dire fa abbastanza il suo lavoro discretamente. Funziona bene. E posso stare anche tranquillo, visto che ha anche il sistema interno, le cose, basta sempre avere le piccole accortezze che si devono avere con tutti i tubi meccanici, che appunto di non scendere troppo con le resistenze, quindi stare sempre in certi parametri, si può stare abbastanza tranquilli. Un'altra cosa è cambiare sempre il wrap alla batteria 18650, che poi è semplicemente una plastica termorretrattile, come ho fatto vedere in un precedente video. È semplicissimo. Metterla basta o un phon, o un accendino, o un piccolo cannello a fiamma ossidica, ma insomma, anche con un phon semplicissimo fa il suo lavoro. Adesso montiamo l'ultima brucolina. Devo dire che mi trovo abbastanza bene. Vado a mettere la vite. C'è la batteria. Chiudo. Da considerare che adesso io, è da stamattina che mi sto svapando, la batteria è a metà, ma comunque tira bomba. Non sgarra mai, anche se girando su YouTube ho visto alcuni ragazzi che avevano un problema, che quando andavano a premere il tasto non funzionava sempre, ma a me funziona sempre. Non mi è mai capitato di, appunto, andare a premere e non fare contatto, come potete vedere. Ogni volta. Poi è abbastanza reattivo. Beh, adesso io ho montato due resistenze in nickel chrome, che come sappiamo è uno delle legge, diciamo, più reattive. Oltre all'acciaio, vabbè, eccetera, eccetera. È un tubo eccezionale. Sa davvero fare bene il suo lavoro, anche se è un clone. Io all'inizio ero un po' riluttante sui cloni, ma voglio dire, è ben riuscito. Ci saranno magari altri cloni che non funzionano bene, ma quello purtroppo capita. Questo che ho io della King Bright è eccezionale. Bellissimo. Poi basta lucidarlo per mantenerlo sempre pulito, sia per un fattore estetico, sia anche per il funzionamento vero e proprio del tubo. Che, come vi ho spiegato in un precedente video, il tubo meccanico, appunto, ha il funzionamento, appunto, di condurre elettricità. Quindi, se noi lo manteniamo sporco, ovviamente, meno resa. Se lo teniamo ben pulito, invece, fa il suo lavoro sempre. Il Kennedy, che ho io, sempre un clone. Fa abbastanza bene il suo dovere, anche lui. La capienza è anche ottima. Cioè, io lo riempio e non devo rimettere sempre il liquido ogni 2-3 tiri, come io mi sarei aspettato da, appunto, un dripper. Ma no. Anzi, lo riempio una volta e ci faccio un 10-12 tiri e poi subito. E non mi arriva neanche a seccarsi il cotone e a bruciarsi, che bisogna sempre stare attenti. Eccezionale. Non perde un colpo. Ve lo consiglio ovviamente. Su internet lo trovate a un prezzo basso. Comunque, non so se si trova negli store italiani, ma in America lo trovate. Si trova, dai. Ragazzi, se vi è piaciuta questa recensione lasciate un mi piace. Come sempre, se volete potete iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.